Buongiorno, buon pomeriggio, buon venerdì. Allora, come avrete notato, stanno finalmente togliendo dal commercio piatti, bicchieri posati di plastica, cosa che per il nostro ambiente è solo una grandissima vittoria. Però giustamente, ne parlavo anche con le mie colleghe, si diceva che stanno mettendo in commercio, adesso quelli compostabili, quelli in bioplastica, sì, ok, ma pensiamoci bene, finiscono tutti in pattumiera, sono soldi, soldi che voi prendete e buttate nel cestino, perché tanto lì vanno a finire. E allora, io sono qua per darvi la soluzione, una volta per tutte. Allora, le posate, che quando andiamo a tagliare le costine, immancabilmente la forchetta si rompe e quindi è inutile. E allora, eccole qua, le nostre posate, sono in catalogo, sono conservate all'interno di questa custodia, ci sono tutte e tre, ve le potete portare al mare, in montagna, a scuola, al lavoro, dove volete, in piscina, al parco, dove più vi garba. Quando avete finito di usarle, sto litigando perché devo trovare l'incastro giusto, aspettate, ecco qua. Quando avete finito di usarle, le riponete all'interno della custodia e ve le rimettete in borsa, così non le perdete, se sono sporche non vi sporcano la borsa e queste le riutilizzerete per tutta la vita. Quindi, uno per ogni membro della famiglia e siete a posto. Le comprate una volta e non ci pensate più. Costano 8 euro, ma non hanno neanche un costo eccessivo. I bicchieri, ne abbiamo due tipi, quello normale e quello un po' più grande. Premetto che purtroppo non trovo i coperchietti di questi bicchieri, ma sono i classici nostri bicchieri col coperchietto, con la valvolina in silicone per mettere la cannuccia. Sono ermetici perché sapete bene che quando li capovolgete quella valvolina rimane perfettamente chiusa perché è in silicone, quindi anche i bimbi un po' più capriccioselli, anche se fanno così, da qua non esce nulla. E anche questi li trovate in catalogo. Oppure, c'è la versione un po' più grande, quella oltretutto nel nuovissimo materiale Eco+, che è un materiale ottenuto da tutta quella plastica che non si può riciclare. Tupperware cosa fa? Estrae tutte le parti nocive e voilà, ha creato la nostra bottiglia. Come vedete ha il beccuccio per bere, è ermetica, quindi o bevete da qua, oppure se avete un bimbo piccolo e magari avete paura che si possa bagnare, non dovete fare altro che prendere la nostra eco-cannuccia, mettergli la prolunga e metterla nel bicchiere. Ecco qua, come vedete ci sta perfettamente. Potete lavarli tranquillamente in lavastoviglie, mentre per la nostra eco-cannuccia ovviamente vi consiglio sempre il suo scovolino personale, così le potete pulire bene dentro. A me una volta è capitato di andare a mangiare in un posto, è un fast food, e mi hanno dato la cannuccia di cartone. Beh, lo dai, ho detto, una bella idea. Peccato che dopo poco mi sono trovata dei pezzetti di cartone in bocca e la cosa non è stata molto piacevole. Da quella volta io le mie eco-cannucce, quando so che magari devo andare in certi posti, centro commerciale, e so che comunque o il pranzo o la cena lo farò là, me le metto in borsa, perché così uso le mie e non utilizzo quelle lì perché le trovo veramente disgustose. Le nostre eco-cannucce, anche queste, sono state create con materiale non riciclabile, per cui ripulite al 100% dell'igiene ed eccole qua. Ripeto, c'è la prolunga, proprio perché se avete un bicchiere alto o anche una bottiglietta la mettete all'interno, se invece avete questo con il suo tappino, senza prolunga, la cannuccia ci sta perfettamente. E poi i piatti. In questo momento abbiamo una linea di piatti bellissima in promozione nella brochure dell'estate e sono i nostri piatti prisma. Guardate che meraviglia, si riflette anche la ring light. Sono bellissimi, sembrano vetro, quasi cristallo, in realtà è policarbonato, quindi qui ci potete anche appoggiare cose calde. Sono veramente molto molto carini, molto belli, sconsiglio di lavarli in lavastoviglie perché a lungo andare potrebbero perdere questa brillantezza, diventare opachi, scusate, e veramente è la loro caratteristica, sono veramente stupendi e sono in offerta 14 euro tutti e due. Per cui, io l'alternativa ve l'ho data. Pensateci a fare questo piccolo gesto per il nostro pianeta, perché questi li comprate una volta e non ve ne liberate più, quelli li comprate e li buttate nel cestino. E se diventate clienti privilegiati risparmierete anche un sacco di soldi su questi prodotti, perché le clienti privilegiate hanno il 10% di sconto su tutto. Ciao! Grazie a tutti!